C'è la grande solidarietà nei confronti della famiglia della ragazza, era una studentessa che era stata ospitata a Napoli, stava studiando nelle nostre università, quindi c'è la massima vicinanza alla famiglia. Chiaramente per quello che sono le nostre competenze noi ci auguriamo che le autorità italiane e iraniane, quindi che l'azione diplomatica del nostro paese aiuti al rimpatrio e laddove la famiglia lo desideri, noi ovviamente diamo la massima disponibilità anche per accogliere la salmo a Napoli e quindi darle una degna sepoltura nella nostra città perché noi la consideriamo una cittadina napoletana, dove che lei stava studiando qui si era perfettamente inserita nella nostra comunità, quindi merita rispetto e solidarietà da parte della città.